L'Oro Ampoli, terza edizione del Raduno AP50 San Bartolomeo, cosa rappresenta ma soprattutto come è nata questa iniziativa? Come è nata? È nata da un'iniziativa di ragazzi che dopo un'estate dove non si faceva niente abbiamo voluto organizzare questa bellissima edizione che è dalla prima edizione e ci siamo subito divertiti e poi anche la gente si divertiva e così è stato un percorso che continuava in anno in anno Questa è la terza edizione quindi siamo molto felici di soprattutto il risultato che siamo riusciti a ottenere con il suo bellissimo staff e poi anche la gente che viene a vedere questo Raduno e anche la gente che partecipa